Lunedì 16 aprile, buongiorno e bentrovati con il TGL News, un'edizione del mattino all'insegna della cronaca. I militari dell'arma sono infatti entrati in azione all'alba per un'operazione che ha portato all'arresto di diverse persone. Sul blitz, supportato anche da un elicottero atterrato all'arena da Turi, vige al momento il massimo riservo, ma nelle prossime ore verranno svelati tutti i dettagli. Proseguiamo con il mistero della scomparsa della giovane studentessa cinese del liceo Gioia che sarebbe racchiuso nelle due ore che separano la sua uscita dalla scuola guida intorno alle 15.30 di lunedì scorso all'arrivo in stazione dove verso le 17.30 avrebbe preso il treno. I carabinieri della stazione principale, che stanno proseguendo anche su altre piste, rinnovano l'appello. Chiunque l'avesse vista o la incontri, chiami subito il 112. Due biciclette fiammanti ma soprattutto 45 grammi di hashish e due e mezzo di marijuana nei vestiti. Guai per due uomini, un albanese e un italiano, entrambi residenti a Como, fermati sabato intorno alle 3 di notte dai carabinieri in via Lusardi. I due viaggiavano a bordo di una mountain bike e una city bike, delle quali non hanno saputo spiegare la provenienza. Sono stati quindi denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio e per ricettazione. Chiudiamo con lo sport. È stata fatale al tecnico del proprio Acenza Fulvio Pea la sconfitta rimediata sabato pomeriggio al Garilli per mano del Gavorrano. Un 1-2 che ha portato la dirigenza rossonera a desonerare il tecnico Lodigiano. Al suo posto una vecchia conoscenza del calcio nostrano come Stefano Maccoppi che guiderà la squadra nel derby di sabato prossimo contro il Piacenza. Un Piacenza che ieri ha invece centrato. Un ottimo pareggio sul difficile campo dell'Alessandria che ha guantato la squadra bianco-rossa l'1-1 nei minuti finali grazie a una rete del rispolverato Romero. Tutto questo e molto altro verrà inoltre approfondito questa sera dalle 20 e 20 a zona calcio. La trasmissione di telelibertà dedicata al viaggio dalla Serie C alla terza categoria. La nostra edizione termina qui. Il prossimo appuntamento con il TGL alle 13.15. e il prossimo appuntamento con il TGL alle 13.15.